Eeeh, bella a tutti ragazzi, sono Giac- oh, è questo? Bella a tutti ragazzi, sono Giacco e oggi vi- oh, perché non si vede la manina? Perché sto registrando, boh. Comunque, oggi sono qua con un nuovo video su Minecraft. Appena ho comprato questo giochino qua e... Maronna che brutto che è, intanto che si registra, non si vede niente. Beh, vabbè, comunque, ho appena iniziato, ho appena guardato, prima di fare i video ovviamente, ho guardato un pochino, ho fatto delle altre partite, ho fatto anche una casetta bellissima. Eeeh, però, da qua, voglio ricominciare da zero oggi. Eeeh, allora, prima di tutto, una cosa che vi consiglio è, prendete tanto, tanto, ma tanto legno, ma veramente tantissimo. Che in legno e in Minecraft vi servono per fare praticamente tutto. Eeeh, inizialmente, in questa partita, non so, è probabile che faccio o subito delle armi, cioè, delle armi le faccio subito, ma è probabile che faccio subito anche una piccola casetta per passarci la notte. Perché, non so se sapete, la notte arrivano, ma va, la notte arrivano dei mostri che vorranno uccidervi e faranno dei rompivalle. E quindi, cioè, dovrete avere, o vi scaverete una casetta dentro a una grotta, oppure vi farete una casetta. Allora, la casetta è molto facile da fare, prendete i cubetti che avete di legna. Adesso, non so cos'ho, allora, oh, perché, ah, ci sono le foglie. Un attimo, questi qua sono i cubetti di legna? Ok, adesso sono i cubetti di legna. Allora, prima di tutto, andate su menu, fate i cubetti di legna, mettete uno qua, uno qua, uno qua, e uno qua. Ah no, aspetta, ho sbagliato. Allora, fatevi un po' di questo qua, che è il legno raffinato. Allora, con il regno raffinato, mettete uno qua, uno qua, uno qua, ed uno qua, e farete la crafting table. La crafting table, oh, fuck boy che caverna, da là ci prenderò la pietra. Comunque, con la crafting table potrete produrvi degli oggetti. Allora, guardate, ci cliccate sopra col destro, e craftate gli oggetti. Ehm, oddio. Come si faceva a fare? Beh, vabbè, così, fate la scatola, l'inventario per contenere gli oggetti. Oh mio Dio, non mi ricordo più come si fanno a fare gli sticchetti. Ehm, ok, così, ne mettete due di fila. Infatti, io ve ne consiglio di farvi un bel po', perché vi serviranno per farvi le armi. Tipo qua, dieci, tutti e due, ok. E ve li prendete. Ok. Adesso, con questi qua, mettete per esempio uno qua, uno qua, uno qua, uno qua, uno qua, e uno qua, e vi fate il piccone per scavare più velocemente. Dopo, mettete uno qua, 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 e ce lascio per scavare più velocemente. Dopo, vi consiglio di fare solo uno qua, e vi fate la spadina, che è così. E, dopo di che, cos'è che c'è? Ah, sì. Allora, uno qua, uno qua, uno qua, uno qua, e uno qua, fra questa qua che non mi ricordo come si chiama. Dopo, uno qua, uno qua, e uno qua che vi fa la pala. Ok, adesso mettiamoli tutti qua, questi qua adesso non mi servono. Giù, giù, no, gli sticchetti no. Dopo, qua, e qua. Ok, adesso spettiamo qua, ce la riprendiamo, e quasi quasi, quanto legno ho? No, solo 21, è pochissima, 21 di legna. Andiamo a pigliarcene ancora un po', e se al massimo per la notte non riesco a farmi la casa, la farò, mi farò un'insenatura dentro una caverna, e passerò lì la notte, la farò o domani o nel prossimo video. Ho visto anche te, cubetto in fondo, adesso vengo a tagliarti appena finito questo qua sopra. Ok. Anche te, adesso. Ok. Oh. Oh, quello lì è il carbone. Quello lì è utilissimo. Allora dov'è? Uno, devo andarci. Ok. Questo qua è il carbone, ragazzi. Questo qua è utilissimo. Servirà per farvi le torce. Uffa, è già finito. Comunque adesso prendiamo un po' di pietra. Così ci facciamo le armi migliori. Però ormai... Dai, la notte la passo qua, perché così mi prendo la pietra, mi prendo tutto. Ok, ragazzi, allora ho deciso che la notte la passerò qua. Ok. Allora. Adesso... Prendiamoci il legno, grezza, anche da qua. Però se facessi... Mi sa che sta per tramontare... Oh! Oh! Ancora del carbone, ragazzi. Che fortuna spacciata che ho. Ok. Prendiamo il carbone. Vai in acqua, te. Ancora... Dov'è che l'avevo visto ancora il carbone dopo? Là. Prendiamo che ce ne sia una bella riserva. Oh mio Dio. Quanto bel carbone. Sì, carbone, vieni a me. Vieni a me, carbone. Quanto bel carbone. La passo qua la notte. No, mi sa che sta finendo il carbone, quindi è più probabile che la passo là. Ah no, la passo qua, dai. E se non trovate questo carbone qua, dopo vi farò vedere il modo per farvi il carbone tarocco, che è la carbonella. E lì dovrete avere del... Sì, la passo qua, scavo qua, scavo qua. Allora, prima di tutto... Sticchetti... No. Crafting table... Uno, due, tre, quattro... Dovrebbe essere giusto? No. Parvacone. Ok. Scusate, ma non vedo lì... Non vedendo niente, non so quali sono quelli giusti. Allora mettete uno qua... Dovrebbe essere così, eh? È così? No. Allora è così. È esatto. E vi pigliate tante belle torce. E le torce vi serviranno per continuare i vostri lavori la sera. O? Ok, se sentite dei versi strani... Distruggete tutto... Prendete le torce... Posizionatele... Ecchiudatele... Ecchiudatele... Ancina...